Buongiorno, oggi voglio mostrarvi il nostro nuovo lavoro che abbiamo sviluppato all'interno di un libro che vedete qui, dove appunto all'interno del libro abbiamo installato una micro telecamera wifi, come vedete il libro non presenta segni di lavorazione, qui frontalmente potete notare il piccolo foro da dove all'interno è posizionato l'obiettivo della micro telecamera e qui all'interno del libro potete notare tutta la circuiteria della telecamera con un pacco batteria aggiuntivo e la batteria originale della telecamera, con queste due batterie abbiamo un'autonomia circa di 24 ore, la telecamera come ho detto prima è wifi, registra su una memoria che è questa qui, la telecamera supporta fino a 256 gigabyte di memoria perciò tenete presente che in giga l'ora abbiamo circa 200-220 ore di registrazione, la telecamera ha il sensore di movimento, attivazione vocale, vibrazione, ha il calendario perciò è possibile eventualmente impostare anche degli orari di partenza e di stop della registrazione, perciò ad esempio se la facciamo lavorare 4 ore al giorno avremo circa 20 giorni di autonomia, adesso vi farò un piccolo esempio, vi farò vedere tramite il telefono l'inquadratura, l'immagine trasmessa dal libro, tenete presente che se è connessa al wifi la possiamo rivedere da una qualsiasi parte del mondo tramite smartphone, se invece non avessimo una connessione wifi abbiamo la possibilità di poter rivedere l'immagine in tempo reale in diretta in una distanza massimo di circa 10-15 metri, perciò per esempio posizionata all'interno di questa stanza io posso andare al piano di sopra o alla stanza a fianco e vedere con il telefono l'immagine in tempo reale e eventualmente anche effettuare delle registrazioni, adesso puntiamo la telecamera, in questo caso la vado a posizionare qui, ok, e con il telefono andremo a rivedere le immagini, in questo caso, ok, ecco qua l'immagine, ok, è provvista anche di audio, ok, 1, 2, 3, prova, ok, come vedete la telecamera ha un'apertura di circa 70-80 gradi, perciò riusciamo a riprendere quasi dalla parete a qui all'inizio della poltrona, tutto ciò la possiamo, la telecamera la possiamo pilotare a distanza tramite appunto questa applicazione, da questi pulsanti possiamo fare le foto, la registrazione e dal menu possiamo entrare nelle varie voci di configurazione, la telecamera, a livello è alimentata a batteria o è possibile alimentarla tramite il power bank che è compreso all'interno del libro, ok, il tutto è diciamo prodotto da noi, il lavoro lo facciamo artigianalmente noi, come vedete abbiamo anche altre tipologie di libri, naturalmente qui dobbiamo ancora occultare tutto il sistema, ok, è molto utile se vogliamo controllare quegli ambienti appunto dove abbiamo la possibilità di poter posizionare un libro, il libro lo potete eventualmente anche scegliere voi, lo possiamo adattare a qualsiasi libro che magari avete già all'interno del vostro appartamento o ufficio. Il sistema è in vendita presso il nostro punto vendita qui a Roma o lo potete acquistare tramite il nostro sito internet che è www.spiare.com. Vi ringrazio per averci scelto, vi auguro una buona giornata.